salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto in due località incredibili ci troviamo in Puglia in provincia di Taranto e vi porto a vedere due posti pazzeschi li vedremo con il dgi mini 3 pro perché sono due posti che meritano un drone di questo livello il primo posto che vedremo è Castellaneta mentre la seconda location sono le gravine di Ginosa entrambi due posti incredibili che hanno per comune il territorio perché entrambi hanno questi canyon che arrivano a essere lunghi fino a 10 chilometri che sono stati creati naturalmente e Castellaneta sorge per una parte a strapiombo su uno di questi canyon mentre Ginosa ha queste gravine quindi queste grotte scavate nella roccia che sono state create migliaia di anni fa e quindi abbiamo tutte delle abitazioni rupestri compresa una chiesa veramente grande che è la chiesa madre di quello che è appunto questa area geografica che sono le gravine di Ginosa quindi un ambiente davvero pazzesco e molto molto suggestivo ragazzi qualcosa fuori dai tempi qualcosa fuori da quello che è il nostro occhio abituato a vedere almeno io normalmente cose di questo genere non le avevo mai viste quindi ragazzi detto tutto questo direi di non perdere altro tempo e iniziamo con il primo volo con il DJ Mini 3 Pro a Castellaneta provincia di Taranto dopodiché ci spostiamo alle gravine di Ginosa e questi sono i dati di forecast direi che c'è molto vento a Castellaneta un po' meno alle gravine di Ginosa però cercheremo di fare lo stesso il massimo anche a Castellaneta anche se il vento come vedete davvero davvero molto fastidioso quindi se il video che andate a vedere dovesse piacere vi lasciate un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità e prime spoiler anche di questa location arrivate degli spoiler ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere un video con una recensione, un test, tutorial e altre novità e adesso mettetevi comodi le soluzioni al massimo e buona visione ciao e al prossimo video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti